Anticipazione una vita. Giovedì 14 maggio 2020. Telmo indaga sul passato di Edoardo e Lucia. Marcellina vuole avere un figlio. Vuole diventare madre a tutti i costi. Antonito dopo una lunga conversazione con Fabiana riesce a sistemare le cose con suo padre. Ramon è perdonato. Emilio rivela a Sinta che l'ha vista parlare con un uomo, Don Mariano. Aggiunge che non dirà niente ai suoi genitori e che manterrà il segreto. E noveva è nervosa e si dispera quando riceve un'altra lettera. Telmo si reca a casa di Lucia per chiedere qualcosa di molto importante. Matteo è suo figlio? L'ex sacerdote dice a Ursula di avere un grosso sospetto. Edoardo poi vede l'uomo fare tutto il possibile per importunare la moglie e non esita a lanciargli un avvertimento.